Non è prudente entrare, non è consigliato varcare la soglia della villa Fuscalzo, non entrare. Ve l'ho detto che non devi entrare, non entrare, non entrare. Oh, guarda, ci sono delle tombe, deve essere la tomba del conte Fuscalzo. E' stato ucciso dalle maschere bianche, insieme alle streghe, alle streghe. Ma la cosa si fa interessante, guarda, fantastico. Ma cos'è questo rumore? Questo schircolio? Questo schircolio, cos'è questo rumore che succede?